Sono pronto a dare ordine a attacco. Ho deciso che gli Stati Uniti dovrebbero condurre un'azione militare contro il regime siriano. Avverte così il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Per il presidente USA, l'uso di armi chimiche da parte del regime di Assad è stato un attacco alla dignità umana, sottolineando che questo tipo di atrocità non vanno solo indagate ma anche affrontate, contrariamente a quanto fa l'ONU, che secondo Obama è completamente paralizzato e non vuole affrontare Assad. Lo stesso Obama ha deciso però di non dare l'ordine alle forze USA di passare all'azione, scegliendo di chiedere prima l'autorizzazione per l'uso della forza ai rappresentanti degli americani in congresso, spostando quindi il lago della bilancia sul Parlamento. La Russia, di contro, non è affatto convinta delle prove presentate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati sul presunto attacco chimico alle porte di Damasco, che l'Occidente sostiene sia stato perpetrato dal regime di Bashar a quello di Assad. Il ministro degli esteri russi ha accusato l'Occidente di nascondere i commenti di molti esperti che hanno espresso seri dubbi sulla veridicità delle riprese video dell'attacco pubblicato in rete, immagini dove non c'è nulla di concreto, né carte geografiche né nomi. Dobbiamo stare a quanto dicono gli Stati Uniti e Francia, che precisano che questo intervento avrebbe lo scopo di impedire per il futuro l'utilizzo delle armi chimiche da parte del regime di Assad. In queste parole del ministro Mauro si possono sintetizzare il pensiero e le volontà dell'Italia sulla questione siriana. Per il ministro c'è un problema più ampio che è di responsabilità diretta della comunità internazionale, ovvero disinnescare un conflitto, contenerlo nel tempo e preparare le condizioni della pace. In ogni caso, afferma Mauro, le posizioni vengono definite di volta in volta attraverso riunioni collegiali ed espresse attraverso il nostro presidente del Consiglio. Il premier Letta, puntando ad una conciliazione e facendo affidamento sul G20 di San Pietroburgo come occasione di risoluzione della questione, chiarisce che l'Italia, pur comprendendo la volontà di agire di USA e Francia contro l'uso di armi chimiche in Siria, non intende partecipare a un intervento militare senza un mandato ONU.